salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video parleremo ancora di filtro dell'olio in particolare descriveremo brevemente quali sono i componenti che costituiscono le due più comuni tipologie di filtro dell'olio ossia quello spin on e quello ecologico ad immersione nel filtro olio spin on la componente prevalente è sicuramente l'acciaio pensiamo per esempio al gruppo flangia piastrone il gruppo flangia piastrone è realizzato in acciaio stampato a freddo nel piastrone vengono ricavati dei fori esterni in corrispondenza dei quali l'olio proveniente dalla coppa entra all'interno del filtro escendo filtrato in corrispondenza del foro filettato centrale che comunicando direttamente col motore l'olio raggiungerà tutti i suoi componenti affinché li possa lubrificare al di sotto del gruppo flangia piastrone troviamo una membrana in gomma nitrilica chiamata più propriamente valvola antidrenaggio qui si sfrutta l'elasticità del materiale in modo tale che l'olio che entra in corrispondenza dei fori esterni possa deformare elasticamente questa membrana permettendo all'olio di entrare solo in un verso impedendo quindi la fuoriuscita perché altrimenti l'olio andrebbe a raggiungere la coppa e ci troveremmo in una condizione di filtro dell'olio privo d'olio all'interno un altro componente di particolare importanza è la vasca probabilmente la vasca è il componente che più di ogni altro all'interno di un filtro dell'olio viene sollecitato maggiormente si pensi che in fase di calcolo progettuale la vasca potrebbe raggiungere anche uno spessore di un millimetro affinché il filtro possa raggiungere delle pressioni di esercizio che si aggirano intorno ai 50 barre questo succede generalmente per i filtri olioidraulici un'altra componente è la cartuccia filtrante che poi fondamentalmente è il cuore del filtro la cartuccia filtrante è costituita ovviamente da carta pieghettata e la carta pieghettata è realizzata con con cellulosa rinforzata con circa il 20 per cento di tecnofibre e tecnofibre hanno proprio il compito di andare ad incrementare la resistenza meccanica della della carta perché altrimenti potrebbe magari danneggiarsi durante le fasi di sovrappressione all'interno del filtro o a causa delle elevate temperature che si potrebbero raggiungere dall'olio in fase di funzionamento del filtro all'interno di questa cartuccia troviamo anche un tubo spiralato un tubo spiralato che è realizzato in banda stagnata elettrolitica grazie alla natura del di questo materiale il tubo all'interno non corroderà mai la funzione di questo tubo è quella di sostenere dinamicamente la cartuccia che altrimenti a causa delle sollecitazioni continue e impartite dall'olio potrebbe deformarsi e causare anche danni ingenti all'interno del filtro un altro componente invece è la valvola bypass inglobata all'interno della cartuccia la funzione di questa valvola bypass non è altro che aprirsi per permettere all'olio di defluire all'interno del motore anche se non filtrato però è meglio avere olio non filtrato all'interno del motore piuttosto che non averne proprio questa è una condizione che potrebbe verificarsi quando per esempio all'interno del filtro olio si potrebbero raggiungere delle pressioni piuttosto elevate quindi nel momento in cui si raggiungono delle pressioni che vanno ben oltre i limiti di progetto per forza di cose questa valvola bypass deve aprirsi per permettere quindi all'olio di defluire all'interno del motore un ultimo componente di fondamentale importanza è questa molla balestra chiamata anche molla di compensazione il suo compito è quella di andare ad assorbire le sollecitazioni che gli vengono impartite dalla cartuccia filtrante che è continuamente sollecitata dalle fluttuazioni dell'olio ecco quindi funge davvero e proprio ammortizzatore per questa cartuccia è chiaro che per avere un componente che possa essere sollecitato senza mai rompersi per tutto l'arco di funzionamento del filtro è necessario dotarlo di un materiale speciale infatti questo è un materiale realizzato in acciaio armonico quindi un acciaio ad altissimo contenuto di silicio come abbiamo visto per il filtro olio spin on nel filtro olio ad immersione le componenti diciamo chiave della cartuccia filtrante sono la carta e i fondelli i fondelli che possono essere realizzati in vari materiali potrebbero essere il polietilene il poliamide il nylon il feltro ma comunque sono dei comuni polimeri la loro funzione è quella di andare a sostenere la carta filtrante ma per farlo è necessario saldarli con la carta e per farlo è necessario dotarsi di due tecnologie fondamentali di saldatura che sono l'ultrasuono e l'infrarosso quindi queste due tecnologie vanno a sostituire le colle che probabilmente in fase di funzionamento potrebbero non rendere efficiente il filtro queste due tecnologie di saldatura hanno la caratteristica di andare a generare dei legami tra carta e fondelli superiore ed inferiore indivisibili e permanenti per tutto il ciclo di funzionamento del filtro e anche nelle condizioni più critiche di funzionamento nel prossimo video andremo a descrivere invece quali sono le caratteristiche che deve avere necessariamente un filtro dell'olio affinché possa essere considerato di qualità di questo ne parleremo nel prossimo video grazie e alla prossima grazie a tutti